Siamo qui con la signora Norma che tra pochi minuti si sottoporrà a un intervento di mastoplastica additiva con protesi. La signora Norma sono tanti anni che ovviamente aspetta questo giorno per l'intervento. È tranquilla questa mattina? Sì, sì. È tranquilla, ovviamente a digiuno? Sì. Ok, adesso perché tra pochi minuti saremo pronti. Si sottoporrà ovviamente a un'anestesia molto leggera, un'anestesia locale con appunto una leggera sedazione. La procedura durerà circa un'ora, il risveglio sarà molto veloce. Dopodiché andremo a farci raccontare proprio nei momenti successivi al risveglio e poi nel momento prima che andrà a casa come la sensazione.